esercitazioni test di ingresso esercitazioni di chimica e biologia per i test di ingresso in professioni sanitarie biologia medicina e chirurgia biotecnologia odontoiatria medicina veterinaria e tutte le facoltà affini dove sono presenti quindi anche alle sezioni di biologia e di chimica allora leggete quanto scritto il rosso perché in questo rettangolino rosso perché è molto importante e passiamo alla domanda mi raccomando ragionateci io ve la leggo ci ragionate stoppate il video cercate di ragionarci date la risposta poi andate avanti col video e vedete se avete risposto bene poi vi do la risposta quindi i monosaccaridi abbiamo sei opzioni a hanno quasi sempre formula bruta il cui numero di atomi di ossigeno è il doppio del numero di atomi di idrogeno e gli atomi di ossigeno sono numericamente uguali agli atomi di carbonio b sono quasi sempre presenti eteroatomi c sono sempre presenti eteroatomi d hanno quasi sempre formule brute multipli di cn h2n o 2n e hanno sempre formule brute multipli di cn h2n o 2n qual è la risposta giusta quindi ragionateci stoppate il video poi dopo aver dato la risposta continuate a seguire il video e vediamo se avete risposto correttamente ovviamente la risposta a è errata il numero di atomi di ossigeno c'è scritto nella risposta a è il doppio del numero di atomi di idrogeno e invece se avete studiato sapete bene che non è così risposta b anzi voglio naturalmente voglio così linee generali dirvi il perché la formula bruta dei monosaccaridi le formule brutte dei monosaccaridi sono formule che sono multipli di questa formuletta qui cn h2n o n dove n è il numero di atomi quindi vedete che sono gli atomi di idrogeno ad essere il doppio rispetto agli atomi di carbonio o ancora rispetto agli atomi di ossigeno e gli atomi di ossigeno sono uguali agli atomi numericamente sono uguali agli atomi di carbonio in un monosaccaride questo non è sempre vero infatti nel desossiribosio come lo volete chiamare è uguale lo zucchero presente nei desossiribonucleotidi quindi i nucleotidi che formano il dna il desossiribosio ha un atomo di ossigeno in meno quindi questa formula da a partire da questa formula voi potete fare quasi tutte le formule brutte dei monosaccaridi ma non tutte il desossiribosio come dovreste sapere non bene ma benissimo infatti ha infatti formula bruta c5 h10 o 4 non ha formula bruta c5 h10 o 5 abbiamo un ossigeno in meno la stessa parola lo dice desossiribosio deossiribosio ha un atomo di ossigeno in meno quindi la risposta a è naturalmente scorretta per la medesima logica anche le risposte d ed e sono scorrette la d hanno quasi sempre formule brute multipli di cn h2n o 2n assolutamente non è vero l'ossigeno numericamente gli atomi di ossigeno non sono il doppio degli atomi di carbonio invece appunto come vi ho detto prima le formule brute dei monosaccaridi sono multiple di questa formuletta qui quindi cn h2n o n non o 2n quindi se per esempio n è uguale a c e a 6 avremo c6 h 12 perché 2 va moltiplicato per n che è 6 6 per 2 è 12 c6 h 12 o 6 che è per esempio la formula bruta del glucosio ma non soltanto del glucosio anche di come dovreste sapere di diversi altri monosaccaridi quindi eliminiamo la risposta di ed eliminiamo naturalmente anche la risposta e hanno sempre formule brute multipli di cn h2n o 2n non è assolutamente vero qui cosa cambia quasi o sempre in ogni caso né quasi né sempre quindi la d e la e sono errate per la medesima logica mi raccomando voi mi capite solo soltanto ed esclusivamente se avete già studiato perché io io vi vi seguo appuntino ho fatto dei video corsi in cui vi seguo appuntino se no cercate di studiare un attimino per i fatti vostri allora così non parlo arabo poi quali quali rimangono ci rimangono le risposte b e c la b ci dice sono quasi sempre presenti eteroatomi la c ci dice sono sempre presenti eteroatomi allora voi sapete dovete sapere dovreste sapere che un eteroatomo è un atomo in chimica organica che è diverso dagli atomi di idrogeno e di ossigeno ma se sapete che i saccaridi sono composti organici ternari formati da tre elementi chimici carbonio idrogeno e ossigeno è presente l'ossigeno è sempre presente l'ossigeno quindi è un eteroatomo quindi non sono quasi sempre presenti eteroatomi anche la b è sbagliata sono sempre presenti eteroatomi la risposta giusta è la risposta c e facciamo quindi una bella crocetta nella risposta c bene se avete trovato interessante il video vi invito a mettere un bel mi piace e iscrivervi al mio canale perché di questo e di altri video ne troverete tantissimi e mi raccomando perché gli studenti iniziano a prepararsi molto ma molto 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 prima per i testi d'ingresso quindi più materiale avete meglio è va bene così vi auguro buono studio alla prossima